Ilari Blasi, ospite a Belbe, trasmissione condotta da Francesca Fagnani, ha affrontato due argomenti che hanno fatto letteralmente impazzire il web. Il primo l'ha vista al centro del gossip per diverso tempo, assieme a suo marito Francesco Totti. Il secondo, invece, riguarda la presunta frecciatina lanciata da Ilari al conduttore del grande fratello VIP, Alfonso Signorini. Riguardo la presunta crisi matrimoniale con Totti, Ilari Blasi ha smentito sia che essa perduti sia che ci sia stata, dicendosi convinta del fatto che si sia trattato di un vero e proprio complotto ai danni della sua famiglia. Tutto è partito da una foto, diventata virale, che immortala l'ex calciatore allo stadio con una donna a poca distanza. Chi avrebbe ordito un complotto contro Ilari Blasi e Francesco Totti? Sinceramente, non ho pensato a Fabrizio Corona, anche perché mi sembra sia partita da altri giornali. Ha esordito la Blasi, ribadendo. Ho pensato solo che fosse un complotto, ad un'organizzazione, ma onestamente non ho un'idea di Chio. Ilari Blasi, nel corso dell'intervista, ha chiarito anche quali siano i suoi rapporti con Alfonso Signorini e cosa abbia voluto dire con la battuta, da opinionista a conduttore e un attimo, visto che Signorini è stato opinionista per un triennio al GF VIP, da lei condotto. La battuta è stata fatta da Ilari nel corso di una puntata dell'Isola dei Famosi, rivolgendosi a Vladimir Luxuria. La Blasi, che con quella dichiarazione ha infiammato il web, ha precisato di aver voluto solo scherzare. Io e Alfonso abbiamo lavorato insieme per tre anni, io conducevo il grande fratello, lui faceva l'opinionista. Ci siamo divertiti tantissimo, siamo molto in confidenza. Non andrei mai a casa sua a dire, devi sparire, l'ho fatto perché ho confidenza, e un gioco, ha dichiarato Ilari Blasi. Quando ho detto quella cosa è stata vista in maniera negativa, ma in realtà era positiva. Ho fatto un complimento a Vladimir come per dire, non si sa mai nella vita, ha precisato la Blasi, chiarendo di essere in buoni rapporti con Signorini. La moglie di Totti ha posto fine, così, alle voci relative ad una presunta rivalità con il direttore di chi è da quelle, ancora più insistenti, su una presunta crisi coniugale.